Ciao, il mio nome è Monica e in questo video voglio condividere con te i benefici che io ho ottenuto grazie alla tecnologia dei Tao Patch inventata dal dottor Fontana. Io ringrazierò a vita questo dottore che ho avuto la fortuna personalmente di conoscere anni fa in una prima presentazione fatta a Bussolengo, dove sono stata invitata proprio dalla professionista, nonché amica Daniela Pennacchioni. Da diversi anni lei mi tratta, è un'osteopata straordinaria che io adoro, col tempo è diventata anche un'amica, una confidente e quindi direi che da parecchi anni lei conosce quelle che sono le mie esigenze, le mie problematiche e quando ci fu l'occasione di invitarmi alla prima presentazione dove appunto veniva presentata questa nuova realtà, sono stata felice di farne parte. In quell'occasione quella sera oltretutto mi proposi come cavia, come tester per vedere realmente quali erano i benefici di questa nuova tecnologia e già allora ne fui stata rapita perché mettendomi in primo luogo, in primo, come si dice, in gioco, in prima linea, ho potuto capire fin da subito quale fosse la potenzialità di questo nuovo metodo. Con il tempo ho imparato a conoscere i Tao Patch, facendo i trattamenti in studio da Daniela, su di me ne usa tanti e per parecchie volte e lo straordinario beneficio che io ho ottenuto grazie a questa tecnologia è stato con gli Emotion. Ancoli qua. Io ho deciso di acquistare gli Emotion, quelli verdi, perché su di me, quando Daniela me li ha applicati qualche tempo fa per trattarmi in una situazione particolare della mia vita, è stato un boom, una buona prima vista, veramente. Ricordo ancora la sensazione che descrisse Daniela quando poi tornata a casa la sera che mi aveva lasciato applicato questo Tao dopo il trattamento, senti proprio una sensazione di benessere. Il beneficio maggiore che io ho ottenuto e sto tenendo è nel controllo dei miei stati ansiogeni. Io sono una persona che per diversi anni ha sofferto di attacchi di panico, quindi conosco le misure più disparate, chimiche o non chimiche, naturali, omeopatiche, scusate, per tenere sotto controllo gli stati d'ansia, ma devo dire che grazie a questi dispositivi verdi. Sarà che io adoro il verde, sarà che il verde è speranza, sarà che sono una bomba, però io veramente da quando sto utilizzando il Tao Patch non ho più avuto necessità di assumere qualsiasi tipo di farmaco omeopatico, niente che fosse da ingerire per bocca per controllare la mia ansia. E quindi se posso riassumere, come dicevo all'inizio, i miei benefici sono straordinari. Mi hanno cambiato la vita? Sì, decisamente sì. Da una persona che era costantemente alla ricerca di qualcosa che potesse migliorare un'ansia costante, con il Tao Patch sinceramente vivo la mia vita, la mia quotidianità serena. L'altra cosa straordinaria, che mi diceva sempre Daniela, ma che sto proprio provando io e testando io in questi mesi, è il fatto di usarli per le cose più disparate, dal male alla cervicale, ai dolori mestruali, lei spesso mi fa applicare appunto sui meridiani per questi stati emotivi, però la recente esperienza, il mese scorso appunto io soffro molto di dolori premestruali molto forti e condividevo proprio con Daniela invece il fatto che avendoli applicati sulla pancia sono stata molto 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 meglio. Per esempio in questi giorni, che lavorando da casa probabilmente utilizza una posizione ancora più scomoda rispetto a quella che di solito utilizza in ufficio, li ho applicati nei due punti della cervicale. Quindi uno davanti, non so se si vede, c'è il sole e l'altro è qui dietro. Vediamo, 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 si vede, si vede, si vede, c'è il sole. Eccolo lì. Ecco questi sono i miei due ormai alleati e fedeli compagni di viaggio perché veramente grazie a loro è completamente cambiata la mia quotidianità. Giusto l'altro giorno condividevo con il mio compagno questa esperienza perché io penso che nell'ultimo mese li ho spostati ovunque i tau patch da quelli che erano i meridiani che mi diceva Daniela per appunto la gestione dell'ansia ai dolori mestruali e quando li ho applicati l'altra sera per contrastare questo dolore appunto da un continuo utilizzo del mouse è stata un'esperienza fantastica perché nel giro di una notte io mi sono nata tutta la mattina che ero leggera, ero elastica, non avevo più quello che io chiamo quel mastino che ti mangia la muscolatura qua dietro e infatti al mio compagno condividevo questa cosa e dicevo guarda prossimo investimento sicuramente gli started o comunque quelli proprio per la postura perché se ho ottenuto dei benefici io sulla postura utilizzando gli emotion che hanno delle informazioni ridotte rispetto a quelli proprio necessarie per la postura direi che ho fatto bingo e soprattutto bingo l'ha fatto il dottor Fontana che io ringrazio personalmente per aver ideato e dato a tutti quanti noi la possibilità di veramente stare bene e migliorare la propria qualità di vita attraverso questi dispositivi che sono piccoli, in dolore, sono facili da applicare perché si applicano con dei cerotti che oltretutto danno in dotazione con la scatola quando si fa l'acquisto e ringrazio sicuramente Daniela per avermi fatto incontrare questo nuovo mondo e non per ultimo ringrazio comunque anche tutto lo staff perché devo dire che anche nella mia personale esperienza sono state molto professionali molto attente e quindi direi che è un'equipe di qualità grazie e da un pesce per tutti